Rotonda vittoria delle ragazze a Maranto dell'Arezzo che vincono 2-1 in trasferta contro la Lucchese e concludono a punteggio pieno il Giro 1-9 di Coppa Italia di Serie C. Le aretine sul campo di Porcari hanno gestito bene la partita, inizialmente molto equilibrata. Al 33esimo Paganini porta in vantaggio l'Arezzo e il primo tempo si chiude sul parziale di 1-0 per le ospiti. Il secondo tempo non entusiasma gli spettatori, almeno fino all'84esimo, quando Bovera doppia mettendo la vittoria in cassaforte per la squadra di Mister Testini. In pieno recupero la Lucchese accorcia le distanze con Manganiello. L'Arezzo a calcio femminile si qualifica quindi per la prima volta agli ottavi di finale di Coppa, cominciando col botto una stagione che si pronuncia importante, viste le ambizioni della società Maranto.